Contarina è un'azienda interamente pubblica, una famiglia di 50 comuni che lavora ogni giorno per rendere il nostro territorio un posto migliore. Ci occupiamo della gestione dei rifiuti, dalla raccolta alla produzione di nuove materie, producendo compost dal rifiuto umido e vegetale, valorizzando i rifiuti riciclabili come carta, vetro, plastica e lattine, trattando il rifiuto secco residuo e riciclando i prodotti assorbenti. Ci occupiamo delle bonifiche, del verde pubblico, dell'educazione nelle scuole, nelle famiglie e nelle imprese e sosteniamo la comunità con progetti speciali per migliorare l'ambiente e consegnarlo al meglio alle future generazioni. Per questo Contarina è al tuo fianco. Per questo Contarina è anche tua.